cavo dai ok andiamo avanti nella carriera leggenda continua dove eravamo rimasti delphi boxing academy les angeles california sono felix in questo momento è un tipo tatuato un po' strano e sembrerebbe che il mio allenatore sia lui crit ti ho fatto molto la prima volta che hai fatto il tuo gioco ho ancora un lavoro per farlo andiamo è un crit e ho avuto un'imperazione e ho avuto un'imperazione per gli altri non ti dico tutto il credito Chavez è riuscita a la cima e il gioco 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 ok quattro stelle va bene siamo riusciti ad arrivare anche a cinque però non male dai quattro vediamo che succede vuoi alzarti? non so cosa vuol dire però si ah Metz Hall Philadelphia Pensilvania cerchiamo di stare un po' fermi adesso riusciamo il momento che ci siamo tutti aspettati è finalmente qui chi è prontato per combattere? in la blu corner bobby l'operator Nash bobby ritor questo è forte mi sa questo è forte mi sa quando sei prontato quando sei prontato tocchi i blu e ci siamo qui soprattutto meglio avere sempre un contatto se dà un pugno all'arbitro questo è un grande oggi questo è un grande potremmo potremmo Carando diess moves Chavez, comin' in with a light hit Dig deeper Oh, they are comin' out strong Two Refocus Sto andando bene Che grosso Secondo round È rosso Sto andando Sto andando Oh no, he's open! Nel male questo! Ok, è andata! Battuto! Ok, ragazzi, battuto! Mi sono scaldato! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!